Siamo qui a Orbino per il Festival di Territorio Musicale. Siamo qui con i Pane. Ridare spazi forti, precisi alla musica suonata. La musica suonata è fatta anche come divertimento creativo. Era in provincia di Messina, bellissima, dimenticata, offesa. E svenni non so perché. E' un po' catti come un cane fucilato. Quando ripresi a respirare, quando ripresi non ho mai sentito tanto silenzio. Mi faceva male. Così chissimi le volte, scusate, grazie, scusate, grazie, scusate, grazie. E bere un bicchiere d'acqua fresca. Ma ringraziando e scusandomi ancora, me ne andai verso un quartiere. Un quartiere nero, come una sorca. Ma l'indipendenza non è un concetto economico. L'indipendenza, oltre ad essere un concetto economico, quando si fa un certo tipo di musica, è un concetto mentale. Come dire, oserei dire, spirituale, psicologico. Io, noi, speriamo di essere indipendenti, nel senso, internamente. Quindi ringraziamo.